Una voragine si è aperta nelle ore scorse sul lungomare di Cetraro a causa del maltempo, destando non poca preoccupazione tra i cittadini. In ansia soprattutto gli abitanti delle case più vicine alla costa cetrarese e più di uno ora punta il dito sui lavori di ripascimento e di rinforzo delle barriere frangiflutti sospesi ad agosto. Il sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, rende noto di aver diffidato la ditta responsabile delle opere. Vi è stato l'effetto sifonamento che capita lungo le coste, nei tratti lungomare non protetti, non adeguatamente protetti. Per cui siccome manca tutta la barriera a mare, manca il ripascimento che bisogna fare davanti il muro paraonde, si è creata questa voragine. E' chiaro che questo allarma i cittadini, allarma me, tant'è che ho diffidato la ditta a riprendere immediatamente i lavori, anche con condizioni meteomarine avverse, perché si intervenga a tutela della pubblica incolumità. Si interventa recintando la zona del cantiere, si intervenga tentando da terra di proteggere il muro paraonde e quindi evitare questo effetto sifonamento. La situazione è dunque allarmante e gli abitanti hanno convocato diversi incontri per sentire direttamente dal sindaco cosa si sta facendo per i vari casi di dissesto che interessano il territorio.